Ciao creatura, io sono Ecato e Splendente, benvenuta o bentornata nel regno di Gozai, A.S.M.R. Mugbang con insalata, formaggio, fontalda e tonno, volevo anche il mais dolce ma non ce l'ho in casa, pensavo di averlo, i campani che suonano proprio adesso, dopo aver settato tutto giustamente. La mia pancia che brontola, questa è l'insalata, sì oggi mangerò solo questo, perché mi fa così? Insalata iceberg e radicchio e forse c'è qualcosa altro anche in mezzo, però non lo so. Benissimo, credo in salata riccia, sì. Provo a fare un no talking, anche se adesso ho parlato, però era solo per dirti che cosa andrò a mangiare, anche se forse l'avrei letto dal titolo, non importa. Non ho detto, l'ho condita soltanto con olio extravergine d'oliva, sale e basta, perché mi piace così. Prima, tanto tempo fa, la condivo con aceto, balsamico, olio e mi piaceva un sacco, invece adesso mi piace così, semplice. Basta, ecco a te, stai zitta. No, devo dire l'ultima cosa, poi sto a zitta davvero. Spero di farti venire voglia di mangiare l'insalata e le verdure. Io oggi ho tantissima voglia di insalata, insalatona, anche se sono tre ingredienti. Però, noi ci vediamo tutti quei video dove mangiano hamburger, McDonald's, Burger King e altre schifezze. Schifezze, tra virgolette, cose non molto sane e ci fanno venire voglia. Invece dovremmo guardare i video dove ci fanno venire voglia di mangiare cose sane. Se fanno venire, questa schifezze, sia come se st Stein GRASI NU Era vero finden,?」 Danni, qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusa la luce è troppo sparaflesciata in faccia ma avendo la felpa nera, lo sfondo nero fa così. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.